Una campagna di comunicazione per valorizzare la qualità e la stagionalità del pescato toscano e per ampliare le potenzialità del mercato, adesso in difficoltà economica dopo l'emergenza coronavirus. Si chiama Un mare di pesci per ogni stagione, è finanziata con le risorse del Fondo Comunitario per la Pesca ed è stata presentata nella sede della regione. C'è bisogno di far capire che l'aspetto legato al consumo, anche della stagionalità del pescato, può essere molto utile e poi bisogna far capire che acquistare pesce pescato nei nostri mari, dalle nostre marinerie, ha un risultato molto importante che è quello di una ricaduta sul nostro territorio, di un rafforzamento della nostra flotta e anche, secondo me, dell'opportunità di poter degustare pesci che spesso sono poco conosciuti, qualcuno lo definisce pesce povero, io non lo definisco così, però pesci meno conosciuti che invece hanno delle qualità organolettiche molto molto importanti. In Toscana sono circa 1.500 gli occupati di un comparto che conta 590 barche per una produzione annua di quasi 11.000 tonnellate.